Buongiorno a tutti, oggi ho fatto questo campanile di legno, abbiamo un concerto di 5 campane in 2-3, adesso ascolto il mostrare per la Santa Messa delle 7 e mezzo, di frattempo faccio vedere, questi sono i due campanoni, le domenziane e la piccola, adesso ascolto e la Messa delle 7 e mezzo, quindi a presto dai Eduardo Campanello di Otto, buon ascolto a tutti, ciao! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Ciao! Ciao! Buongiorno a tutti! 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 ci sono la distezza della mezzana alle sette e mezzo fatte dalla distezza del campanone quindi la prossima allora ragazzi alla fine siamo qui a casa mia ora fate la distezza del campanone alle sette e mezzo quindi volete sta sonata cento dopo a dopo ecco Grazie a tutti. Ragazzi, suonate il campanone, adesso state menso, quindi vi saluto e ciao. Grazie a tutti.